Pregiudicato e irregolare in Italia, è ora anche arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Le manette si sono stretti ai polsi di un 28enne tunisino fermato dalla polizia in via Fambri alla Stanga, mentre tentava di allontanarsi in tutta fretta con una tronchese in mano assieme ad un'altra persona che è riuscita a far perdere le proprie tracce. Ad allertare le forze dell'ordine erano stati dei residenti che avevano sentito rumori sospetti. Gli agenti hanno sorpreso i due ancora intenti ad armeggiare con la porta d'ingresso dell'appartamento.